ragazzi e ragazzi dal profondo del veneto ho trovato un sito internet nel quale niente proprio di meno che Zaya gli fa un tutorial su come aprire le bottiglie una cosa interessantissima forse che lo vediamo buongiorno a tutti e benvenuti a questo tutorial nel quale vi spiegherò come che si apre o se verse una bottiglia o borsa dei vini per prima cosa assicuratevi che il tappo non sia a corona ma perché scusa accetta un tappo a corona poi verso te con la mascherina o guarda che il nostro vin è il meglio del vaccino anche perché ti puoi farti a quarta a quinta e a sesta dose l'importante sia che dopo non te guidi ma infatti io volevo farvi il vostro vaccino un bottiglione del prosecco però aveva un gusto strano come va? probabilmente si arriva dal tappo è stato perché lui aveva provato brunetta comunque guarda che se non te bevi se è molto molto grave ma perché? non bevi ti ammali muori o fai morire ma guarda questo anche l'imitazione dei dryers ma pensa di che roba ma lei è proprio un uomo di spettacolo altro che le vi lo star vai guarda te mi ha già fatto per un sacco di tempo sto a quel computer e vai in monale tua mamma no quasi non l'hai per stavolta ti mando in monale tua santo beh va bene pari fresca selvecco che vuole prosecco prosecco doc grazie a tutti